Oggi la rubrica Verde Provincia parla d'Europa. Perché d'Europa? Perché la provincia di Pordenone è sempre stata interessata a creare un collegamento forte tra gli enti locali, l'ente intermedio e l'Europa. Fin dal lontano 1998 la provincia di Pordenone iniziò a progettare delle iniziative che potessero avere riscontro a livello europeo. Soprattutto in quel tempo si parlava di agricoltura perché la comunità aveva un occhio di riguardo per questo tipo di interventi e di progettualità. Furono dei successi perché la provincia di Pordenone ottenne degli importanti finanziamenti e da quell'idea così embrionale di collaborazione attiva con la comunità europea si iniziò a parlare proprio di uno staff, di un ufficio operativo che si preoccupasse e si occupasse di queste problematiche. Da lì ai giorni nostri tanto tempo è passato. Adesso c'è un ufficio che si occupa direttamente di progetti europei e nel 2009 è stato inaugurato l'ufficio Europe Direct che è uno dei due uffici presenti in regione che si occupa proprio di iniziative e di interventi finanziati dalla comunità europea. Parlavamo di progetti europei. Vediamo quali progetti sta portando avanti la provincia di Pordenone con impegno e in collaborazione con le regioni Veneto e Trentino e con le nazioni della Slovenia e della Croazia. Sono delle iniziative che riguardano il territorio. Soprattutto vogliamo incrementare il turismo attraverso la conoscenza delle nostre città non solo dal punto di vista storico e architettonico ma anche dal punto di vista paesaggistico anche attraverso la conoscenza delle nostre imprese agricole e anche dell'enogastronomia. Questi progetti sono importanti perché hanno un'effettiva ricaduta sul territorio e hanno già avuto il gradimento di diverse amministrazioni locali. Questi progetti sono già stati valutati positivamente dalla prima commissione e siamo in attesa adesso del loro finanziamento. C'è un altro progetto in cantiere molto importante che riguarda la musica che vuole sempre valorizzare il territorio però attraverso appunto un percorso musicale. In provincia di Pordenone si organizzano tantissimi festival, tantissimi concerti, tantissime iniziative che hanno come comune denominatore la musica. Noi vogliamo veramente valutarle positivamente anche inserendole in questo progetto che deve dare risposta a quella effervescenza musicale, a quella vitalità musicale che c'è in provincia di Pordenone. Lo faremo ovviamente in collaborazione con tutti coloro che si occupano di musica e di turismo in provincia di Pordenone e speriamo già che alla fine di quest'anno, all'inizio del prossimo, questo progetto si possa concretizzare e possa essere presentato alla comunità europea.